È stata una grande e bella partita, ordinata, combattiva, non troppo cattiva. C'è stato rispetto tra ambo le parti e ci siamo divertiti, penso, abbiamo dato un bello spettacolo, sia noi che l'atletico. Un mio colpo di testa, chiamiamolo così, un mio errore. Ho toccato la palla con la mano e ho meritato il mio secondo cartellino al gioco. Il campionato noi si punta sempre a vincere, poi i risultati arriveranno. Dove riusciamo ad arrivare là saremo comunque contenti, perché noi mettiamo impegno e dedizioni, abbiamo grandi aspirazioni. Spero di fare tanti gol e di chiudere il campionato in bellezza.